Le pietre sono timide e insignificanti, vuote, senza voce né storia, ma da qualche mese ho iniziato a raccoglierle e a parlarci. Ho raccolto pietre nel dorset, dal letto del Tamigi, dai giardini dei vicini, dalle acque di Brighton. Pietre trovate, pietre regalate, pietre scovate, pietre rubate. Le pietre hanno sempre avuto un grande fascino su di me, mi chiamano con sussurri di sirena, dai letti dei fiumi, dalle spiagge, dalle profondità del mare. Sono tante, tantissime e diversissime, dalle tinte grigie, bianche, a volte nere, con striature bianche. Sono piatte, strette, affilate, perfettamente sferiche, schiacciate, spezzate. E qualche cosa di veramente magico e poetico raccogliere questi pezzi di mondo. E da quando ho iniziato a lavorarle mi hanno iniziato a parlare, nella loro lingua sassosa. E ho scoperto che nascondono mondi incredibili. Sono dure da tagliare, da scolpire, da levigare, da scalfire. E se cadono si possono anche sbriciolare. Vengono da lontano, portano con loro le voci dei tempi e dei terri remote. La storia le ha graffiate, rotte, spezzate, sbriciolate. Le maree e i venti le hanno accarezzate e ammorbidite. Adulti e bambini le hanno raccolte e collezionate da secoli. Le pietre sorridono quando i papà insegnano ai figli a farle volare sul letto del mare. Le pietre adorano essere scelte tra le tante, sentirsi speciali, e amano il calore di quella mano che sfiora alla loro fredda e liscia pelle, e poi le nasconde golosamente, in fondo alla tasca o nel buio dello zaino. Amano sentirsi tesoro prezioso e fare nido in case e salotti. Le pietre ci insegnano davvero tanto su di noi e sulla vita. Spesso viviamo senza lo stupore del viaggio. Non vediamo i colori che danzano davanti agli occhi. Non siamo gli eroi del romanzo della nostra vita. Il grigio scandisce le ore del giorno e della notte. Per me è quindi raccogliere le pietre, lavorarle, regalarle e collezionare pezzi di vita e di storia, colorarli, inciderli, rivelarne il bello, dare loro una nuova vita, trasformarli in arte, farli risplendere di vita. È riscoprire il fremito del viaggio e dell'avventura, ascoltare il fruscio della vita che ci vibra sotto alla pelle, svelare l'arte dentro e fuori di noi, emozionarsi dell'arcobaleno che squarcia il grigio della vita. Questo viaggio tra le pietre è la strada che voglio camminare, anche quando la mia vita è dura come un sasso e suonano solo di rintocchi bassi e sordi. Proprio allora il canto delle pietre mi viene a salutare e capisco quanto sia importante raccoglierle, ammirarle e trasformarle in arte, perché le pietre ci sussurrano nelle orecchie che noi siamo davvero tanto. Basta forse solo prenderci il tempo di ascoltarle in silenzio e di ascoltarci dentro. Cercare quelle venature nascoste nella roccia, dipingerle con il nostro cuore per poi ammirarle con tenerezza, perdersi nel loro magnetismo e abbandonarsi alla loro poesia infinita.